Berga YouTube, la serie di video dedicati alla traduzione guidata di autori del quinto anno del licio classico, una decina di video sugli oratori sono già stati pubblicati, ora invece ci occupiamo dei filosofi. Oggi iniziamo le danze con Aristotele, un passo in cui Aristotele ci parla dell'opportunità o meno che le città si affaccino sul mare e dei rischi legati alla presenza di una popolazione numerosa o anche di tanti mercanti. Abbiamo da identificare comunque sia intanto i verbi, identifichiamo questo Thais, eunomumenaes che è un participio presente, contratto medio passivo, da eunomeo ed è in questo caso è un participio che sta con polesin ed è attributivo perché è preceduto dall'articolo, da Thais, lo puoi vedere, poi abbiamo tinjanusin che è il mio verbo principale e che è costruito come vuole la costruzione di tinjano con il participio predicativo che è rappresentato da anfisbeteo. Tinjanusi, anfisbetuntes, si traduce e si trovano a discutere oppure discutono per caso. Io prediligo sempre la prima forma, mi trovo a, perché sembra meno impegnativa. Si trovano a discutere, polla, molte cose, oppure a lungo, e la forma impersonale, terza persona plurale per dire ci si trova a discutere a lungo, per i testes coinonias, riguardo alla partecipazione vicino al mare, quindi riguardo alla vicinanza con il mare e poi ci si trova a discutere, ecco qui, l'oggetto della discussione. Poteron è significa se o sono due congiunzioni interrogative che vengono impiegate nell'interrogativa disgiuntiva e allora si trovano, ci si trova a discutere a lungo se la vicinanza presso il mare sia utile, o felimos, o dannosa, tais poleis, alle città, eunumumenaes, alle città ben organizzate, ben governate, c'è eu dentro il prefisso bene e poi nomos che è appunto la legge. E poi continua, totegar epixenustai, che evidentemente è un infinito presente, sostantivato da epixenoo, tinas, enallois tezrammenus nomois, asynforon einaifasi, prosten eunumian, caeten polianthropian. Allora andiamo per gradi, occupiamoci intanto di questa forma di participio che è tezrammenus e che concorda con i tinas di sopra, noi identifichiamo intanto il raddoppiamento, poi abbiamo questo che evidentemente parte del tema verbale e poi menus che è la desinenza del participio medio passivo. Se c'è raddoppiamento e se guardiamo la desinenza è facile concludere che si tratti di un participio perfetto medio passivo. Il verbo in questione è trefo e non trepo per la semplice ragione che abbiamo qui, la presenza della aspirata. Ricordo che trepo e trefo hanno identica la forma del perfetto attivo e tetrofa ma invece è differente la forma del perfetto medio passivo perché tetrammai e poi tezrammai. La zeta fa la differenza. Dunque c'è un gar argomentativo. A partire da questo fasì identifico la mia proposizione reggente. Dicono gar infatti toxenussai con i tinas infinitiva sostantivata che il fatto che siano ospitati alcuni e poiché oppure se tetrammenum sono stati allevati o sono cresciuti sotto altre leggi, sotto leggi differenti, è inutile, asynforon non è di giovamento, non è utile, prosten eunomia, non è utile al buon ordinamento. Kai ten polianthropian, il senso diventa, dicono infatti che asynforon einai che non giova al buon ordinamento sia sia, ma c'è la negazione, non giova al buon ordinamento né l'ospitare alcuni se sono cresciuti sotto leggi differenti né ten polianthropian né il sovrannumero di popolazione, l'eccesso di popolazione polianthropian. Dopo polianthropian abbiamo ginezai men e più sotto nella penultima riga ipenantian de, quindi c'è una contrapposizione. I penantian è al femminile, quindi evidentemente concorda con polianthropian e si capisce dunque che Aristotele sta portando avanti la sua spiegazione in merito all'eccesso, al numero eccessivo della popolazione. Nel primo caso dice ginezai, cioè si verifica evidentemente l'eccesso di popolazione, infatti, ektu, chrestai, è un infinito sostantivato. In realtà, a meglio guardare, è un'infinitiva sostantivata, un costrutto frequente in greco. Ciò significa che il soggetto è rappresentato da plezos e imporon, cioè si verifica l'eccesso di popolazione dal fatto che la moltitudine di mercanti, chrestai, tè, salatte, si serva del mare inviando e ricevendo evidentemente le merci, ma, oppure d'altra parte, la poliantropia, l'eccesso di popolazione risulta d'ostacolo contrario all'essere governati bene, cioè all'essere cittadini rettamente, politeu e sai, oppure ad avere un regime politico retto. Ecco, questa era la proposta di traduzione Poche righe, in cui risulta chiaro alla fine, perché poi ci si deve sempre interrogare sul senso di quello che traduciamo, risulta chiaro, è solo un passaggio argomentativo questo, di un discorso molto più ampio, che Aristotele è contrario al sovrannumero della popolazione. Non si sa perché, ma il contesto sicuramente verte sulla necessità di avere un ordinamento politico che sia retto e quindi forse guarda con sospetto al sovrannumero della popolazione, magari anche in riferimento alla situazione dei giovani che possono attingere ad altri modelli educativi che non sono quelli che abbiano a che fare con l'eonomia. Questo naturalmente è alla luce di quello che si legge in questo passo della politica di Aristotele. Ecco, qui ci fermiamo. Se il lavoro ti è parso utile ti invito a lasciare un like e a frequentare comunque il Berga YouTube, visto che ci sono più di 600 video a disposizione di italiano latino-greco. Per qualsiasi richiesta approfitta delle note sotto in descrizione. Intanto ti auguro un buon lavoro.